Neve a marzo a volte capita. Praticamente all'inizio della primavera anche ad Alessandria è tornata a cadere la neve. E non solo qualche vago fiocco, ma una vera e propria nevicata che continua per parecchie ore, più di 24. In realtà non è un fenomeno meteorologico così raro e singolare, ma un po' di stupore ovviamente l'ha provocato. Anche se, bisogna dire la verità, era stato ampiamente predetto su ogni mezzo di comunicazione. Ovviamente il clima non è comunque rigido come a gennaio e visto che in molte zone la temperatura è al di sopra dello zero, gran parte della neve si scioglie non appena tocca il terreno, ma sui tetti e negli spazi meno frequentati un manto bianco è comunque rimasto. Uno dei luoghi più esposti della provincia è stata la zona di Capanne di Marcarolo, dove si sono raggiunti 60 cm di neve. In generale in provincia non ci sono stati enormi disagi, anche se qualche effetto dalla nevicata è stato provocato. Ieri sul passo del Turchino, nell'Ovadese, la neve era molto intensa e restava sulla strada, rendendola un po' troppo pericolosa per le biciclette. I corridori della Milano-Sanremo sono stati dunque costretti, dopo aver percorso 110 km da Milano, a scendere dalle loro due ruote e a salire sui pullman che le hanno trasportati sino ad Arenzano, in Riviera. La gara è ripresa verso le 14.30 con lo stesso ordine che si era creato al momento della neutralizzazione della gara. Questo è il termine tecnico usato in questi casi. Questa mattina invece a Villanova-Monferrato, intorno alle 7.30, un camion per la raccolta plastica è andato contro un muretto di mattoni, dopo aver perso il controllo, probabilmente a causa della neve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e la polizia municipale. Per fortuna l'autista ha riportato solo lievi ferite, ma il traffico per una parte della mattinata è stato rallentato in tutto il comune. La situazione è comunque destinata a migliorare a breve. Nelle prossime ore è infatti atteso un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche, con un aumento dei venti occidentali e locali condizioni di aria più calda. Il rapido rasserenamento porterà a un abbassamento dei valori termici questa notte, con minime sotto gli 0 gradi in pianura e quindi ci saranno gelate diffuse.